Far entrare gli studenti a scuola in orari diversi dalle 8 fino alle 10 è l'ipotesi sulla quale si sta discutendo in questi giorni, anche se per la verità il tema è vecchio. Se ne era parlato già durante l'estate. Di recente se ne è discusso nel corso dell'incontro svoltosi ieri presso il Ministero dei Trasporti con la partecipazione degli assessori regionali. Tutto nasce dai timori legati all'aumento dei contagi e dalla volontà del Governo e del Ministero di evitare a tutti i costi una nuova chiusura delle scuole a tempo indefinito. Perché ormai è abbastanza chiaro a tutti che il problema del trasporto è quello più difficile e più complesso da affrontare e da risolvere, soprattutto nelle grandi città. Le regioni per la verità chiedono, e non da oggi, che almeno nelle secondarie di secondo grado si attivi anche la didattica a distanza in modo da contenere gli spostamenti e da limitare l'uso dei mezzi di trasporto. Ma la soluzione non piace affatto alla Ministra che continua a ripetere che le scuole devono restare aperte perché la didattica si fa a scuola e in presenza e anche perché fare scuola ha risvolti relazionali che non possono essere in alcun modo trascurati. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli che ha manifestato non poche perplessità sulla possibilità di organizzare nelle scuole ingressi e uscite con orari molto diversificati. Un'ora, come già si fa adesso in molte scuole, può essere un intervallo di tempo ragionevole, dice Giannelli, ma due ore non sarebbero gestibili. Per dilazionare gli ingressi tra l'altro le scuole dovrebbero anche essere già al completo con gli organici e le cattedre dovrebbero essere coperte in larga misura, ma così non è per le tante difficoltà che si stanno registrando nelle nomine dei supplenti annuali. La situazione è complicata tanto che si segnalano persino casi di scuole che stanno rinunciando agli organici aggiuntivi covid perché non riescono a trovare docenti disponibili ad accettare l'incarico. Quello delle cattedre vacanti è così l'altro nodo difficilissimo da sciogliere. Alle manifestazioni dei docenti precari indette nella giornata di ieri dai sindacati scuola c'è stata una discreta partecipazione, ma nel concreto questo non cambierà di molto la situazione, almeno nell'immediato. I problemi organizzativi che le scuole stanno vivendo continuano a rimanere e almeno per ora la ministra non sembra intenzionata a rinviare l'avvio del concorso straordinario per la scuola secondaria previsto per il 22 di ottobre e cioè per la prossima settimana. La sensazione è che su diversi temi si stia navigando un po' a vista senza un piano strategico complessivo, ma a proposito di strategie va segnalata l'iniziativa del segretario del partito democratico Nicola Zingaretti che sta parlando di stati generali della scuola da convocare entro Natale, ma francamente due mesi di tempo per organizzare una iniziativa di questa portata sembrano davvero un po' pochi, soprattutto in una fase difficile come questa. Ovviamente su questo tema noi continueremo a discutere, a parlare, ad informarvi, quindi seguiteci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e continuate soprattutto a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.